Non ci può essere un premio Cattullo se non ci fossero signori, tutti gli anni si impegna, lui ovviamente è l'amministrazione comunale, ma l'amministrazione è un ente, ci vogliono le persone che fanno funzionare gli enti e Giordano deve dire che molto tenacemente ha voluto e la vuole questa manifestazione, questa manifestazione che porta i signori e l'Ago di Garda in giro per l'Italia e per il mondo e quindi benvenga. Oddio, per rispondere a battute iniziali posso dire che lo faranno anche senza di me un giorno, ma intanto ci lavoriamo e ci lavoriamo seriamente, l'importante è raggiungere risultati, risultati che sono sotto gli occhi di tutti, con le persone che anche questa volta portiamo sul palco, tra giurati e premiati, ancora una volta riusciamo a garantire un livello qualitativo notevole, anche perché abbiamo degli impegni da mantenere con la RAI, nel senso che per tenere la prima serata su RAI 1 ci vuole una qualità notevole. Detto questo, il premio nel suo aspetto giornalistico premia quest'anno di personaggi di assoluto livello, dovrei dire come sempre, nel senso che non è che in passato siamo andati peggio, però quest'anno soprattutto con Vittorio Feltri mi pare che raggiungiamo un risultato notevole e abbiamo come sempre personaggi del mondo, dello spettacolo, della televisione, quindi Michel Unziker su tutti, ma anche Flavio Insinna, personaggi della scienza come Giorgio Calabrese e poi dello spettacolo Peppino Di Capri, quindi con la conduzione sapiente come sempre di Carlo Conti, anche lui ormai collaudato, nel senso che mi pare Carlo Conti viene dal 2003, esatto, è dal 2003 che Carlo Conti ha detto e verrà premiato. Esatto, viene premiato anche lui, diamo anche questa anteprima, quindi io penso che sia una serata nel segno del premio Catullo, nel senso di continuità rispetto a quello che siamo riusciti a fare in questi anni. Premio giornalistico questa sera ha segnato Vittorio Feltri in occasione del Catullo Sirmione, un onore per noi averla qui e soprattutto per i meriti per cui è stata premiata. Credo che parlare di giornalismo a giorno d'oggi sappiamo come la pensare, anzi lo dica lei. Sì, siamo un po' in difficoltà in questo periodo. Mi lasci dire che è un onore per me non solo ricevere il premio che veramente mi riempie di soddisfazione, ma sono soprattutto onorato di essere a Sirmione che è uno dei luoghi ai quali sono più affezionato. Io insomma non sono nato tanto distante da qui e per me il Garda è sempre stata una meta abituale. E venirci per ritirare questo premio, insomma al piacere di rivedere il luogo c'è anche quello del premio. Posso rovinare la serata parlando un po' di politics? Sì, lo faccio sempre e spesso ci ho azzeccato in passato. Oggi devo dire che sono anch'io, come credo tutti i cittadini italiani, abbastanza in confusione. Non si riesce a prevedere quello che accadrà, anche se a volte dalla gran confusione può nascere un nuovo ordine. Mi auguro che nasca presto perché così credo non si possa andare avanti. Queste spallate continuano, oggi la spallata arriveranno? Sì, le spallate sono state fino adesso velleitarie. Certo è che anche la stabilità del governo è molto relativa. Credo che se cadrà non cadrà per le spallate ma perché inciamperà in qualche cosa. Gli inciampi sono parecchi. Questa nuova nomina Veltroni unificherà o romperà tutta? Io penso che Veltroni per il Partito Democratico possa essere una scelta felice, o almeno giudicare dall'accoglienza che ha avuto. Certo è che dal mio punto di vista Veltroni è uno scattista, un centometrista. Sono sicuro che vincerà i centometri, ma il governo deve fare i chilometri. Vedremo se avrà la resistenza e io a questo non credo. Berlusconi? Berlusconi invece ha dimostrato di avere doti di lottatore, quindi di fondista, e poi alla fine viene sempre fuori, anche alle ultime elezioni sembrava spacciato, cotto e bollito e poi ha perso sì ma per pochi voti. Quindi anche i suoi alleati che lo danno sempre per morto, mi riferisco a Fini e a Casini, questo dovrebbe dire qualcosa. Non sarà facile farlo secco. Voi avete un altro vignettista che ti piace dire a Mortadella? Sì, Prodi, noi qualche volta forse abbiamo anche ceduto nelle critiche. Certo è che nelle sue condizioni, con la maggioranza di cui dispone, credo che nessun altro sarebbe riuscito a sopravvivere un anno. Quindi bisogna anche riconoscergli qualche merito. Grazie per questa sua limpidezza, si è meritato veramente questo premio di Simeone. Grazie, grazie, grazie.